Signor Commissario, come ricordato da altri, la crisi ucraina sembra aver spostato l'attenzione delle istituzioni europee quasi esclusivamente sul vicinato orientale. E mentre i riflettori sono puntati sulla Russia, nel quasi dimenticato vicinato meridionale molte delle speranze post-primavera araba di una transizione democratica e indolore possono dirsi ormai svanite. Al loro posto è silenziosamente maturata una crisi gravissima che sta degradando la Libia a Stato fallito. Il caso libico è un esempio di come l'Unione abbia spesso mostrato poca lungimiranza nella propria politica di vicinato. Veloce quanto basta nel rispondere alle emergenze puntuali, ma incapace di intercettarle nelle loro fasi embrionali. Una discreta politica reattiva, raramente un'efficace azione proattiva. Certo, la crisi nell'est è della massima gravità, ma quella nel sud del Mediterraneo e i 2.900 migranti affogati nel solo 2014 meritano la stessa identica attenzione. Signor Commissario, come crede sia possibile bilanciare le due dimensioni geografiche della politica di vicinato? A suo avviso, quali meccanismi bisognerebbe approntare affinché l'UE non sia obbligata ogni volta a cercare affannosamente soluzioni i tamponi a crisi già deflagrate? Grazie. Ma le posso garantire che noi ci occupiamo anche del sud e non è che non ci occupiamo più della prima vera araba visto che siamo in autunno. Io devo dire che nelle nostre direzioni generali dobbiamo avere anche il personale sufficiente, ma non ci posso fare niente se l'interesse dell'opinione pubblica europea si rivolge maggiormente verso l'est. Internamente posso dirle che nei nostri servizi comunque diamo la stessa importanza a entrambi i vicinati e questo emerge chiaramente dai fondi che vengono attribuiti, da come viene utilizzato il nostro personale e devo dire che con tutte le difficoltà che vediamo nel sud ci sono comunque anche degli esempi positivi, se pensa ad esempio agli sviluppi in Tunisia, pensa ai progressi che abbiamo visto in Marocco oppure agli sviluppi in Giordania, certamente non siamo ancora al punto in cui vorremmo essere, però gli sviluppi dimostrano che è possibile avere risultati positivi, bisogna essere ostinati e continuare a lavorare, certamente ci sono anche ombre non soltanto luci, in Libia siamo ancora molto lontani dal nostro obiettivo e posso comunque garantirle che da parte della Commissione, a cominciare dalla mia persona e poi da tutti i funzionali che rispondono a me diamo la giusta attenzione anche al sud e non solo all'est.